Casse regionali della Campania vuote con un rischio per gli stipendi dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e l'assistenza ospedaliera ai cittadini. È la situazione certificata niente meno che dall'assessore al bilancio Giancarlo Giancane che ha già inviato una lettera al governatore Stefano Caldoro con tanto di numeri e previsioni. Sarebbe pari a 1,4 miliardi di euro la cifra che l'area sanità ha richiesto e dovrebbe andare a coprire gli stipendi di novembre e dicembre dei dipendenti e una parte della rimessa alle ASL di ottobre. Ma al momento, secondo la denuncia, delle entrate programmate che da qui alla fine dell'anno dovrebbero transitare per la regione risultano in cassa 673 milioni di euro e tra le prime voci a cui sarà dirottato l'importo, potrebbe esserci il personale regionale, le indennità per assessori e consiglieri e i costi di giunta e consiglio, con il risultato che, secondo Giancane, i lavoratori della sanità resterebbero a mani vuote.